Qualche altro mascalzone soggioga le cittadine con un concorso esterno mio. Il mondo è la sua rappresentazione, la politica deve basarsi sulla realtà o deve invece lavorare sulla percezione che i rappresentanti hanno della realtà? Filosoficamente la realtà non esiste se non mediata dalla nostra percezione evidentemente, quindi noi abbiamo sempre a che vedere con la percezione della realtà. Ma lasciatemi dire al di là di questi filosofemi noti e arcinoti che bisogna a mio giudizio partire da un presupposto anch'esso interpretativo. L'immigrazione che passa presso alcuni bardi dell'immigrazionismo san frontiere come se fosse qualcosa di positivo è una tragedia. A dire il punto che deve andare in pubblicità. Sarò celerrimo, è una tragedia perché viene vissuta come una tragedia dagli stessi che sono costretti a migrare. Non vi è un'Africa arretrata che sogna l'endorato dell'Europa. Chiarissimo, dobbiamo andare in pubblicità, ringrazio e saluto, Valteraneta che ci deve salutare.